Beh ragazzi sono sempre io, sono sempre fatto, sono sempre fatto, no vabbè parti scherzi, sono sempre io e sono qui con un nuovo video su COD, visto che è tanto che non tornavo su COD, ho deciso di tornare con questo video di... Coglione Due volte, porca puttana E vabbè, ho deciso di tornare con questo video di COD In particolare su gioco delle armi E vabbè mi hai rotto il cazzo, eh non mori Particolare su gioco delle armi e voglio fare appunto questa miniserie fino a che non vinco, per una specie di rotto victory su GDA Praticamente giocherò a questa modalità fino a che non vinco una partita E potrebbe durare, è una serie che non si sa quanto durerà, perché potrebbe durare un episodio, anche se siamo partiti malissimo, come potrebbe durare... Un'infinità, perché io sono una pippa Olè Quindi comunque voi, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa idea di questa miniserie, mini, barra media, barra extra large serie E se vi piace, io ovviamente la continuo, tanto non mi porta via neanche tanto tempo a registrare una partita di GDA Non c'è neanche tanto editing da fare, quindi sarei contento anch'io di farvela e sicuramente ve la farò vedere... Ve la farò vedere molto spesso, perché veramente non ci vuole molto a fare un video del genere Io vi ricordo, come sempre... Aspettate un attimo, eh Mamma mia che pippa! Che pippa di sore, car... Ma calcolate che tanto uno in gioco a sto gioco E veramente non ho più la mira, soprattutto quando cambiano dieci armi Dunque, stavo dicendo... Non so cosa mi è scoppiato dietro alle orecchie Stavo dicendo, se vi va, passate sulla pagina... Porca puttana però, che schifo, eh Vabbè, non lo dico più della pagina Facebook Ve va, passate, c'è, punto Mo, cerchiamo un attimo di farla di monta, perché stiamo veramente facendo cagare Capirai, questa cosa mi muovo a due all'ora 10 a 5, va bene, ci ha doppiato praticamente Dove cazzo siete? Dai, che qualcosa mi ha coperto una minima mappa Olè Olè Dai che si recupera 11 a 7, dai Dove stanno? Vabbè, ma vaffanculo Cioè, vabbè, no, regà, quanto rosicato lì Pure accoltellato, capito? Perché la gente si fa più a dar panico E taccoltella Allora Ci sta qualcuno qua? No Preso Oddio, ma che è? Cioè, con questa manco posso correre Benissimo Oh, non vedi Dimmi che l'ho ammassato No, cioè, non è morto È rispuntato dalle fiamme Non si sa come Eh, vabbè Io ho flashato uno Non so neanche io come No, vabbè, regà Io con il lanciamissile Non c'ho mai Dai, ma come faccio a farti Itmarker che te l'ho sparato in bocca? Oh Comunque siamo troppo lontani Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai 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 Vaffanculo Questo concorpo mi ha ammazzato Solo io non riesco Oddio Mamma mia Preso Dai che recuperamo Tocca a girare qua dentro Vaffanculo Ma come ho fatto? Ma non c'è E vabbè 17-13 Dai che si può ancora riprendere Quello si è bloccato Con il cortellino Però è un po' difficile ormai E infatti è finita qua Manco farei primi tre Sono arrivato Il gradino sotto il podio Io ci sono arrivato Vabbè Il primo episodio di questa serie È finita Speriamo di provare Magari a salire un po' di più Il prossimo episodio Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Lasciate un commento Fatemi sapere come Mi è sembrato questo episodio E niente Passate su Facebook Instagram Trovate tutto quanto in descrizione Bella